E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi cosa molto breve, molto breve, nessuno di voi me l'ha mai chiesto però Forse è una cosa che vi potrebbe servire perché a me è servita tanto soprattutto per le live Perché così posso switchare velocemente gioco ed altre cose senza che si bughi tutto Perché prima, vabbè, storia lunghissima mi si bugga se tenevo il gioco a schermo intero Magari anche a tantissimi di voi succede che al tabate vi si bugga il gioco Allora oggi io vi vado a spiegare come si mette Tarkov in Window and Borderless Cosa significa? È schermo intero solo che non ci sono le classiche bandine sopra dove c'è il Q di iconizza O rimettere a tutto schermo e con la barra sotto delle applicazioni Quindi è come avere un full screen Solo che se voi avete più schermi potete switchare velocemente da uno schermo all'altro Cioè il gioco vi rimane lì senza buggarlo e così via Allora innanzitutto ce ne andiamo nel problemi di regia Ce ne andiamo nel desktop quindi c'è questo Ci abbiamo aperto il launcher, apriamo soltanto il launcher Ah e non badate a Spongebob inquietante dietro Cosa dobbiamo fare? Non so perché hanno deciso di farlo così ma secondo me non è intuitivo sicuramente Bisogna andare sul settings qua Display mode borderless Cioè full screen e borderless Ok e fin qua ci siamo Però che cosa bisogna fare? Bisogna anche avviare il gioco Perché? Perché non basta semplicemente mettere magari full screen il launcher e window with il gioco E non basta mettere borderless da un launcher e full screen dal gioco No deve essere borderless sia nel launcher e window with sia nel gioco Quindi se carica gentil signore grazie mi scusi su quanto gli ci vuole Settings, graphics, a spettratio si full screen non lo spuntate Poi controllate per bene perché era a spettratio perché a me si era buggato qua Che mi dava un'altra risoluzione, un altro di tutto Quindi per sicurezza controllate bene qua Levate la spunta al full screen così Tac potete fare non so Al tab e non succede niente Quindi no che questo ce l'ho C'ho tutto negli altri schermi Però potete fare qualsiasi cosa Tipo così Andare da un'altra parte Il gioco non si bugga E niente Quindi niente Io credo di avere le cuffie spente Ho le cuffie spente Io vi ringrazio per la visione Spero che vi sia stato di aiuto E niente Quanto siamo? 3 minuti di video Spero di caricarvelo il più presto possibile Noi ci vediamo Nei prossimi video Da venerdì io sono in Spagna Però sono già pronti alcuni video Don't worry Quindi noi ci vediamo in un prossimo video E ciao ciao a tutti